Buongiorno a tutti e benvenuti su Scudorè. Oggi vi propongo questo interessante appartamento all'ultimo piano. Ci troviamo al terzo piano e siamo nel pieno centro di Levanto, una zona veramente molto tranquilla e poco trafficata. L'appartamento è composto da ampio ingresso, un grosso soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto e bagno. L'appartamento come vediamo è in ottime condizioni, è vivibile da subito. Ci sono tre trazzini che adesso prenderemo a visionare, più un posto auto coperto che insomma valorizza decisamente l'appartamento, ma quello che vorrei sottolineare sono gli spazi. Come vedete questa cucina abitabile, una cucina veramente grande che su nuovo sarebbe un soggiorno cucina e abbiamo addirittura una dispensa o ripostiglio come vogliamo chiamarlo. La zona come vi dicevo è una zona molto tranquilla. Purtroppo stiamo facendo il filmato sul serale, siamo in inverno, siamo a gennaio, quindi luce ce n'è poca, ma comunque come vedete è ancora molto luminoso, perché ripeto siamo in serata. Stabile, insomma anche veramente molto bello. Soprattutto come avete visto dal video ci troviamo in una zona che intorno a noi e vediamo anche le condizioni di prestigio non da poco. Ecco, proseguiamo invece col soggiorno. Questo soggiorno ha una porta finestra che dà sempre sul carazzino che abbiamo visto prima e una finestra normale. L'appartamento è anche possibile dividerlo in due appartamenti, infatti all'ultimo vi inserisco nel video i due progetti che sono già stati fatti per questo appartamento. Come vedete dal filmato è tutto marmo, marmo anche molto piacevole perché attualmente le piastrelle di Ariostea in gress porcelanato vengono copiati e fotografati questi marmi che in certi casi non esistono più le venature. Questa è la camera diciamo più piccola, in realtà ha soltanto quest'angolo che viene acquisito dall'ingresso, per questo la vediamo a L, qua invece abbiamo il bagno molto grande, ripeto in ottime condizioni, vivibile da subito l'appartamento. Terzo piano, terzo piano, perdono, ultimo. Ecco, questa è un'altra camera da letto, sono tutte matrimoniali comunque le camere. molto grande, sempre marmo, riscaldamento autonomo, qui siamo a via d'ingresso che come vedete è una via cieca e quindi non c'è un passaggio, infissi il legno con dopivetri, vi ricordo che è un ingresso ampio, soggiorno, cucina, tre camere da letto e bagno con un piccolo ripostino, tre terrazzini e posto auto coperto. Questa invece è la terza camera da letto, sempre col suo terrazzino, vista veramente incantevole, zona veramente di prestigio, con questo noi abbiamo terminato e proseguiamo adesso andando a visionare le planimetrie. abbiamo ancora il passo carraio che volevo farvi vedere e i posti auto coperti, ovviamente abbiamo un posto auto coperto per la casa. Questa è la prevetria attuale, questo è uno dei progetti con due camere soggiorno cucina e bagno e questo è l'altro progetto con l'altro appartamento di soggiorno cucina e camera bagno. scudore protegge il tuo sogno immobiliare